Allora, buongiorno, sono Mauro Russo, sono il professore Primo Fagotto del Teatro San Carlo di Napoli e mi trovo qua a Gragnano, in provincia di Napoli, al negozio di Raffaele Inghilterra, strumenti musicali in generale, tutto quanto, per accessori e tutto quanto. Scusami Raffaele, puoi venire gentilmente, insieme al nostro tecnico? Buongiorno, buongiorno. Ciao, allora, io qua in mano ho un Fagotto Eichel che il nostro carissimo Raffaele Inghilterra con Tommaso, lui è il tecnico che ha fatto una revisione, ha revisionato questo strumento, un'Eichel antichissima, è un 5671, penso che sarà del 1900, io penso del 1940, questo qua. Sì, più o meno, sì, comunque io ho visto che l'hanno revisionato ed è, certo, il suono è ottimo, sto facendo delle note così, giusto per... Ovviamente sono le prime note che provo e la sto provando con una S che non è male, è una CC1XL E tra le tante che lui aveva qua a disposizione, che lui anche vende EZ, vende tutto quanto della Eichel e tutto quanto E ho provato questa ed è l'unica, la migliore, insomma, che va su questo Fagotto Comunque, riproviamo, faccio sentire qualcosa Comunque, riproviamo, faccio sentire qualcosa Comunque, riproviamo, faccio sentire qualcosa La caratteristica di questo Fagotto Ah, che quando fai nei piani, il suono è così compatto che riesce a sostenere l'intonazione Non ha un grandissimo suono, però è buono da orchestra Comunque, riproviamo, faccio sentire qualcosa Complimenti Raffaele Grazie, grazie Fagottino Secondo me, bravo per il lavoro In quanti anni sei riuscito a metterlo su a posto? Anche perché io l'ho visto, ho visto 3-4 anni fa, era proprio in condizioni... Pessime Quindi è stato tutto ristrutturato, ritamponato, riargentato Revisionato Sì, è chiaro che non è che... E quindi è a disposizione per una prova E per chi è interessato può passare... Io ho l'Ecler nuovo comprato 7 anni fa e dico che è una grande occasione Anche perché adesso l'Ecler per tutti, se non lo sapete... Acquistare un Ecler oggi ci vogliono 17 anni Minimo 17 anni Dunque 17 anni e poi il prezzo è raddoppiato Non è più 50.000 euro, ma se vuoi un Ecler subito te lo fanno pagare 70-80.000 euro Questo a quanto pare... Poi lo vediamo a 29.000 euro 29.000 euro, un Ecler 52-71 Arrivederci, a presto